Ottanta grandi sculture in ferro e acciaio, 50 disegni e ancora gioielli e un angioletto modellato in cera. Sono le cifre dell'imponente retrospettiva che Matera dedica a Dino Basaldella, fratello maggiore dei più noti Afro e Mirko. Nel centenario della nascita, avvenuta a Udine nel 1909, il circolo La Scaletta ha voluto restituire a Dino Basaldella il suo posto nella storia della scultura del Novecento. E' lui il protagonista dell'antologica allestita nelle chiese rupestre di Madonna delle Virtue di San Nicola dei Greci, oltre che in alcune sale del Musma, il Museo della Scultura Contemporanea. Nei locali ipogei del Sasso Barisano, sotto l'attenta regia del curatore della mostra Giuseppe Appella e della visione scenica dell'architetto allestitore Alberto Zanmatti, le grandi sculture che Dino Basaldella ha creato, partendo da pezzi di ferro o di acciaio recuperati dalle discariche, hanno preso nuova vita affascinando gli appassionati d'arte presenti alla vernice. Un'inaugurazione, evento che ha visto la presenza di Caterina Basaldella, la figlia di Dino, a cui non sono voluti mancare il presidente della regione Vito De Filippo, il presidente della provincia e di Matera, Franco Stella, e il sindaco della città dei Sassi, Emilio Nicola Buccico. Matera è un grande primato, ha sottolineato De Filippo, è una città in cui la cultura è di casa, grazie anche a iniziative private come quelle che da 50 anni realizzano i soci della scaletta. Enti e privati hanno il dovere di collaborare perché Matera sia sempre più un luogo di produzione culturale. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 3 ottobre.